Non abbiamo detto nulla di tuo padre, che rapporto hai con lui? Mio papà è il papà dei miei fratelli? Non il tuo? No. Non hai rapporti col tuo? Non ne vuoi parlare? Eh, mio papà... non lo so che sia. Non te l'hanno mai detto? No, non lo voglio sapere, non l'ho mai... Cioè, non mi interessa. Non ti interessa? Non c'è stato? Ok. E quindi non ho mai... non ho chiesto, non mi interessa. Ma ti è mancata questa figura paterna? No, perché... C'è stato Federico Facchinetti, papà dei miei fratelli, e lui ho chiamato papà, quindi per me il papà c'è stato. Poi non c'è stato quello biologico, ma insomma, importante che ci sia. Assolutamente, come dicono i figli sono di chi li cresce. Sì. Ma non ti è mai avuta la curiosità di andarlo a cercare, di dirgli qualcosa? Ora che sei una donna adulta, ora che sei un genitore? Allora, è una storia un po' complessa, Paola. Io per tanti anni pensavo di avere un... pensavo di conoscerlo. E poi abbiamo scoperto che non era mio papà. Cioè tu franne hai creduto che una persona fosse tuo padre? E lo frequentavi e lo vedevi? Sì. Quindi quando hai scoperto che poi invece lui non era tuo padre, è stato uno shock? Un po', un po'. Quanti anni avevi? Sei anni fa è successo. Ah, caspita. Sì, sì. Un shock vero? Sì, sì. No, io ho fatto questo perché siccome lui è un'altra famiglia ed è grande, mi ha chiesto un riconoscimento e gli ho dato i capelli per fare la... L'esame del DNA? Sì. Ed era per me mio papà, cioè lui era mio papà spagnolo. Ah, è un uomo spagnolo. Sì, 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 no, ma poi se ne è pure parlato un po' di lui nei suoi giornali. Ma non ti chiedo scusa ma non l'ho visto. Sì, no, no, era per dirti che non è una roba privata. E poi niente, lui ha fatto, abbiamo fatto queste analisi e abbiamo scoperto che noi non eravamo imparentati. Scusa, ma il momento in cui tu hai scoperto questo... È stato uno shock per tutti, è stato uno shock per me, per mamma e per lui. Eppure per mio figlio che... Certo. Per mio figlio non voleva manco dare i capelli, perché era il suo nonno, no? È certo. Quando non l'ho saputo è stato... Guarda, Paola, la cosa che tutti i discorsi che abbiamo fatto oggi mi portano a dire questo. La mente ti mente. Io per anni avevo questo rapporto con quest'uomo spagnolo che era il mio papà, che vedevo una volta ogni tanto, che era il mio protettore, che quando lo toccavo sentivo... Eh certo, non lo vedete mai. Capito che lui era il mio papà, il sangue del sangue, non era il mio papà. Però io voglio... Cioè uno si convince di cose, che poi alla fine... Quando scopri... Quando io ho saputo che lui era il mio papà, per un attimo è come se... Ho detto, ma io chi sono allora? No? Hai messo in dubbio anche la tua identità. Tutto? Però poi alla fine io sono questa. Cioè io sono il risultato di Federico Facchinetti. Lui non è mio papà. È stato così scioccante che ho detto a mamma non voglio sperire niente. Ok? Cioè non è lui, non mi interessa sapere chi è. Sì, non mi interessa. E lei la... Cioè pure per lei cerca di capire. Ma che eserci? In quei tempi non si facevano gli esami e cose. Quindi io e noi abbiamo tutti pensato che fosse una persona da sempre. Certo. Quando abbiamo... Questa è una cosa che è stata la prima persona a saperla, tra l'altro. È che non sapevo come risponderti. Siccome non sono capace di mentire. No, lo so. No, ma infatti ti ho chiesto se ne vuoi parlare perché... Sì, perché ormai io lo trovo quasi pure una roba di... Cioè ormai per me mi diverte. Cioè per dirti oggi posso toccare anche un vagabondo e forse papà. Io non lo so. Però poi alla fine sto bene, mio figlio sta bene. Dopo un po' tutto si risolve. Capito? Chi se ne frega, sì. Vabbè.